Ormai non ci sono più parole per descrivere i successi dei fratelli Lombardi, due ragazzi di Castelvedere si sono distinti anche in Macedonia nella seconda tappa di qualificazione a giochi olimpici europei, ottenendo ancora una volta risultati molto importanti, confingendo anche avversari di primo rango provenienti dagli altri paesi nelle qualificazioni di Takeball. Per loro, prima il singolo, dove Rovet ha vinto due partiti ottenendo sei punti importanti fondamentali per le qualificazioni contro Portogallo e Romania, mentre nel doppio è arrivata una vittoria contro la Bulgaria ed una sconfitta contro l'Ungheria. Il terzo atto è in programma a Madrid, mentre il quarto a Montenegro, ultima tappa di qualificazione che si disputerà il prossimo 28 marzo. Tra Takeball e Football, Rovet e John continuano a far parlare di loro in Italia e nel mondo, a dimostrazione che anche i cosiddetti sport considerati minori possono dare lustro al territorio ilpino. L'auspicio è che oltre alla qualificazione possa esserci anche la vittoria con la maglia azzurra dell'europeo. Staremo a vedere dove potranno arrivare.